E' partito il conto alla rovescia per i saldi invernali che in Puglia dureranno fino al 28 febbraio ma i leccesi sono pronti a spendere o hanno terminato i soldi con gli acquisti di Natale? L'abbiamo chiesto a loro, anche se la voglia di spendere sembra davvero poca. L'area di saldi lei comprerà qualcosa? No. Perché preferisce acquistare in periodi normali per avere più scelta? Sì. Non credo. Non penso. Non credo, ho già fatto acquisti prima. Non penso. Siamo fuori sede quindi le spese sono altre. Aspettiamo, grazie. Non lo sappiamo ancora, dipende dai prezzi. E da quanto fanno i saldi effettivamente? No, vedrò. Vedrò, vedrò. Se vedremo, vedremo le offerte che faranno. Se faranno i saldi veri o no? Appunto, perché a volte sono cammuffati. Signore, state guardando per i saldi, potreste comprare qualcosa? Per il momento no, diamo solo un'occhiata. Sono finiti i soldi dopo Natale? No, no. E insomma, si spendono per i regali, poi aspettiamo i saldi al 50. Signora, a tempo di saldi, comprerà qualcosa? No. Finiti i soldi a Natale? Tutti. Comprerò cappotti, vestiti, quello che insomma mi piace. Lei dice tanta roba? Eh, è logico, anch'io. Paga lei? Sì, non è problema. È problema per chi non può pagare.